Eccomi qua, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Oggi concluderò la sfida dei Succhiaterra, che non è proprio una sfida, ma è più una missione di Eugene, soprattutto, quella di sgominare i Succhiaterra da nuova Viral. Si trovano in questo punto della mappa. Non è facile arrivarci, ma partendo da qui dovremmo essere in grado di raggiungerlo. Dopo questo, ovviamente, ci saranno gli altri capitani da affrontare. Conto di farne almeno due la prossima volta, perché devo assolutamente finirli e... Non si va avanti se non li faccio tutti. Comunque, qui entriamo all'acquitrino. L'acquitrino ha dei mostri pericolosi da affrontare. Questa... No, questo è un avversario semplice, affrontiamole via. Tra l'altro, qui c'è un altro capitano anche da queste parti. I mostri sono di livello 40, sono davvero, davvero forti. Bisogna stare attenti. Oh cielo! Ah, certo! Ci sono anche trapworm qui, già. Allora, sta da queste parti qua, no? Oh, poi qua c'è il cimitero pure. Amici miei, qua bella non è la situa, eh? Allora, si va qui. Eccolo qua, sarebbe questo il posto. Il quartiere generale delle schiettele dovrebbe essere qui. Ci siamo. Quei topi di fogna non avranno scampo contro la nostra ardente volontà. Ma l'ingresso dov'è? Eccolo qua. Credo di aver trovato l'ingresso. Già. Pronti ad entrare? Una volta entrati non si torna indietro. Pronti allora. Vediamo un po' chi ci attende qua dentro. Vai, scivoliamo. No, hai mutuo e tasso fisso. Valore di proprietà ipotecata. Tassi di capitalizzazione variabili. Crescita del capitale. Ha finito, ok. Salve. Questo è... What? È mostruoso. È tremendo. È bruttissimo. È bellissimo al tempo stesso. E quando dicono ai personaggi che fa male. Gli sta rompendo il cervello a vedere un'immagine del genere. Questa davvero... La prima volta che l'ho vista mi ha smarmellato il cervello. Perché dico, cosa sto guardando? Cos'è? Come fa quella cosa ad avere quell'aspetto? Mi sta rompendo il cervello. Direi che è un arcangelo, eh? Grazie di esservi presentati all'appuntamento come da programma. La vostra collaborazione è molto apprezzata. Quindi ci sei tu di dar tutto questo, eh? Dimmi, perché mai un arcangelo vuole conquistare il mercato immobiliare? Gli arcangeli nascono dall'ego dell'umanità. I vostri più ardenti desideri ci danno forma. Io esisto come tributo ai consumi degli uomini. Bramo ordine perché voi lo bramate. Bramo struttura perché voi la bramate. Io voglio ciò che vuoi tu, umano Eugene. Posso leggere il tuo cuore. Tu non sei proprio niente di me. Io provo empatia per l'umano Eugene. L'umano Eugene non trova alcun valore in se stesso al di fuori della sua causa. Senza una causa l'umano Eugene è niente. Un vuoto guscio, proprio come i miei agenti. Non è vero. Non ascoltarlo, Eugene. Basta! Non voglio più ascoltarti. Non schiaccerai il mio spirito. È l'unica cosa che sapete fare, tu e quelli come te. Arrivate con i vostri soldi, i vostri paroloni e cercate di sfruttare i poveretti. E se i poveretti reagiscono subito, gli dite di starse dal loro posto. È vero o no? Allora quelli stanno al loro posto e la situazione è peggiora. È sempre la stessa vecchia storia. Link, ti va di ristruggere questa baracca? Facciamolo! Mammon, capo succhiaterra. Che poi è bello che Eugene abbia detto è la stessa vecchia storia, come tra l'altro è la ossa degli arcangeli. Same old story. Allora, vediamo un po'. Che gli facciamo a questo? Aumentiamo l'attacco a distanza e facciamo... Ah no, però lui. Gli fa l'attacco in mischia. Allora no. Facciamo infiamma. Non ricordo se si possono infiammare gli arcangeli, ma penso che gli status si possono mettere. Ok. Iniziamo bene. Eh, infatti si poteva. Effetto leva. Wow. Stranissimo sto arcangelo. Non schiaccerai il mio spirito. E neppure Link si farà fermare tanto facilmente. Ti affronteremo insieme. E vinceremo! In Granadam. Ok. Let's do this! Che gli facciamo? Freccetta ventosa? No, un martello giocattolo è molto meglio. Oh no! I soldi! Ok. Andiamo un po'. Sto cercando qualcosa per cui potergli fare male e non prendere danno, perché lui sicuramente userà il suo attacco finale. Hmm. Se non questo turno, il prossimo. Oh cavoli. Infiammiamolo di nuovo. No, niente. Aia. Oh no, è evocato... No. Cavoli. Eh. Va bene, va bene. Dai, allora. Oggetto. E riavvolgiamo. Mo' fa l'attacco potente, mi sa lui, eh. Loro mundoro a fila. Crono del mercato. Ok. Ingranaggi rasoi! Rasoi. Va a centro, vedete il dove volete. Non importa. Copertura ghiaccio. Interessante. Quattro? No, ho già fatto a farne quattro. Ah. Hmm. Soffiare di attivo potrei prendere anche... Cioè, potrei prendo your mundoro o your mundoro. Un accento un po' strano su your mundoro. Vorrebbe essere your mundoro ma suona malissimo. Quindi lo chiamo your mundoro. Ok. Pronto civetta. Fa un po' male ma possiamo ricaricarci al turno dopo. Va benissimo. Dai. Oh, carate metallico. Bravo. Sfruttare debolezza. Sì, sì. Spacchi il ghiaccio. Difesa in mischia e difesa a distanza. Va bene, va bene. Direi che però è giunto il momento di finirlo. Che dite? Andiamo. Cavoli, ha attaccato prima lui. Pensavo di finirlo invece. Che sbaglio che ho fatto. Ho calcolato male. Va bene, va bene, va bene. Beh, lo finisco ora. Che peccato. Mi dispiace non averlo finito come sempre. eh, vabbè, finita così è finita ragazzi. Che vedevo di con l'avvenenamento. Materiale fuso è un nuovo livello. Va bene. Il tuo vigore è aumentato di 11%. Ed ecco la canzone. Se davvero te ne vuoi andare presta attenzione a quello che è accanto. Il tuo valore dovrà dimostrare. Il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, occidente, sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete. Ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì a meridione dove le strade si vanno a incontrare. Dove si trovano alberi ed erba. Dove i sentieri potrai calpestare. Oh, è proprio un bel posticino qui, Mr. Mammon. Puoi delegare il lavoro. È una risorsa preziosa. Lascia che ti aiuti a uscire da qui. Voi e io un giorno dovremmo proprio fare una chiacchierata. Questo posto cade a pezzi. Forza, dobbiamo andare. Ed anche questo arcangelo è stato messo a tacere. Tutti le agenti su chiacchierata devono essersela filata. Chissà cosa faranno ora che la loro organizzazione è caduta. Wow. È stato pazzesco quando ci siamo fusi, eh? Sì. Già, una botte di adrenalina eppure riuscivo a sentire la forza di volontà che ci guidava insieme alla mia. Neppure un arcangelo è riuscito a fermarci anche se poi ci siamo divisi perché io ho calcolato male i tempi. Quindi, dietro su chiacchierata c'è sempre stato un arcangelo. Quello che mi ha detto poco fa è se fosse vero. Forse senza una causa a cui dedicarmi sono davvero una persona vuoto. Non credo che sia così. Grazie. Ma dimmi, cos'è che spinge te a fare quello che fai? Sai, girare in mondo, aiutare la gente, combattere mostri, eccetera. Troverò un modo per tornare a casa. Mi sembra piuttosto improbabile. Voglio partecipare. Davvero? Così, in 4 e 4. Ah, ok. Abbiamo fermato il succhiaterra, ma non voglio fermarmi qui. Non so se ci riuscirò fisicamente, ma serve qualcosa a qui aspirare. Quindi facciamolo! Una nuova causa a cui dedicarmi. Ci sto. Comportamento impeccabile conclusa. Ok, livello di relazione 1. Beh, dopo la prima fusione è normale. L'uomo con il cappotto rosso ha detto di voler fare una bella chiacchierata con te. Sembra quasi una minaccia. Prima parlavi di qualcosa, una nuova pista che vorresti seguire? Che pista sarebbe, amico mio? Dove si trovano alberi ed erba? Dove si interi potrei calpestare. Sembra che descriva una zona dell'isola. Che ne pensi? Ci rimettiamo in marcia, amico mio? Hai sentito le dicerie su quanto sta accadendo a Prato dei Ciliegi? Già. Dovremmo fare anche questo arcangelo, ma prima Capitana Buffy, prossimo episodio, e anche Donna di Metallo. Così, insomma, potrò accrescere anche il mio potenziale prima di continuare a scorrazzare per queste lande. E un altro trap, Wurm, ma prima di concludere l'episodio c'è un'altra cosa che vorrei fare. Molto importante, tra l'altro. Proseguendo per questa strada si arriva a Fattoria dei Piper. E ora parliamo con questa signora. Ciao, è gentile da partito venireci a trovare qui, resterei un po' se sono di passaggio. Ma entriamo un po' qua dentro. Che succede qui? Non c'è niente, davvero? Ah, che strano, ricordavo di sì. Ma forse mi sbaglio. Beh, allora andiamo fuori. Infatti mi sbagliavo. Ok, parliamo con questo signore. Ciao amico, sei potuto risolvere il nostro problema di melma? Il che? Beh, quel ponte laggiù collega nella fattoria Arbortown. Gran parte dei prodotti freschi consumati in città viene da noi. Purtroppo, certi creature melmose di qui sono diventati un po' turbolenti e di recente hanno incollato il ponte. Non è un problema, però, insomma, sono sicuro che prima o poi spariranno. Nel frattempo, sentiti libero di riposare qui. E se invece io ho una simpatica zucca? No, non posso farlo. Prima di prendere la zucca devo affrontare Megam il metro. E affrontiamolo! Dai amico mio, forza! Dato che è una fusione mi fondo anch'io con Eugene. Let's go baby! In Granadam! Andiamo con infiamma tanto per cominciare. Facciamogli un po' di bruciore. Scaldiamolo con il nostro fuoco amorevole. Non mi piace la pugnata tossica. Beh, sono di metal, sono avvelenato. certo, è logico. Guardalo! Da solo, si è fatto male da solo. Oh cielo, mi sembrava un bel metro shiny. Così, non può essere shiny, al massimo è un bootleg. Non mi sembrava shiny, perché è ancora più scuro. E comunque lo prendo perché lo voglio. Quindi, dato che devo prenderne comunque uno, prendo quello più scuro perché sono fissato. Sono convinto che sia diverso anche se non lo è. Infatti, guardalo. E no, attacca Eugene. Come? Come attacca Eugene? Perché? Perché è attaccato? Io pensavo attaccasse me. Che strano. Ero convinto. Comunque, melmetro ho preso! I melmetri si formano quando i pedonmorti più sfortunati sprofondano nella paluda e non riescono a uscire. Nel corso del tempo i loro corpi si ricompongono e si riformano come esseri composti principalmente da una melma gelatinosa e tossica. Pare che questa melma sia un ottimo fertilizzante. Wow, 200 di attacco in mischia, attacco a distanza 150, difesa a distanza 90, difesa in mischia 130, velocità 110, ps 120. E abbiamo trovato Skele Melma. È appiccicosa e viscita ed è caduta da un melmetro durante la battaglia. Non ti consiglio di mangiarla, ma può comunque essere utile per qualcosa. Effettivamente lo è. Eccolo qua. Grazie amico, stavo cominciando a preoccuparmi per tutta quella situazione. Possiamo la Skele Melma come concime. Immagino che si sia accumulata nel terreno e abbia formato quella creatura. Senti, se vuoi provare a usare la Skele Melma per far crescere i raccolti, accomodati pure. E ora uno dice, ma come far crescere i raccolti? Che vuol dire? Beh, qui c'è qualcosa da prendere, no? E uno dice, come lo prendo? Beh, adesso vi faccio vedere. È semplicissimo in realtà. Ora, a parte quello è un mostro, facciamo così. È una simpatica zucca. Versaci la melma di scheletro. Ma ci... Si è animato. Ma guarda un po'. Questo è il mostro di Byten Studios. Ovviamente, è normale che mettessero un loro mostro all'interno del loro gioco, no? Allora, vorrei sbarazzarmi di Kikiroki perché è forte, eh? Non sembra mai forte. E... una lotta così... è fastidiosissima. Balzucca è uno di quei mostri che ha un'evoluzione diversa in base al giorno o in base alla notte. Quindi, in base a quando si remasterizza la cassetta, si avrà un mostro diverso. Io non lo sapevo, io ho perso mezz'ora per cercare di capire come... avere l'altra forma. Allora, nastro al cromo e martello giocattolo. Stavolta andiamo con me per personaggio con Link perché Eugene è devastato. Inoltre, catturare Balzucca oltre a riempire il bestiario serve anche ad avere una nuova abilità che vedremo appena lo prendo. Divertimento a palla obiettivo sbloccato. Le Balzucche nascono quando la melma di un melmetro viene spalmata su una normale zucca. e le rende senziente. La Balzucca è un esserino curioso e amichevole ma irrequieto e incapace di restare fermo. È un mostro piuttosto normale. Attacco in mischia 100, difesa in mischia 100. Attacco a distanza 75, difesa a distanza 100, velocità 140, PV max 130. Questo è buono. Ora, puoi tenere premuto L per scalare le pareti come i rampicanti. Quest'azione consuma vigore. Perché non provarla subito, no? Eccolo qua! Si scalano le pareti. Guarda che bella. In realtà anche con ZL è uguale. Così come magnetismo. Però, ehi, possiamo tornare ora a Nuova Viral? Qua, Arburtown. No, Nuova Viral. Nuova Viral è posto. Possiamo arrivare a Arburtown più facilmente. Eccoci qua. Questa è la parte della città che non vi ho mostrato ancora. Perché l'ho sbloccata così, proprio di getto. Basta che sali sopra questi due, anche in ordine sparso, non serve a metterci qualcosa, e vi abbassa il ponte. Io mi sono buttato praticamente e vi abbassa e vi abbassa